E allora, andiamo con il primo collegamento della giornata, l'argomento è quello della ciaieria ex silva, ciaieria d'Italia adesso, e in collegamento abbiamo Valerio Dallò, segretario nazionale FIMCISL, buongiorno e ben trovato. Buongiorno, ben ritrovati a voi. Ecco, motivo dell'intervista è l'incontro del 9 novembre che le organizzazioni sindacali di FIM, FIOM e Wilm hanno spuntato con Palazzo Chirigi per la ripresa delle trattative sulla vertenza ex silva, al centro di tutto la prospettiva dei futuri assetti societari, la transizione ecologica, il rilancio più in generale degli stabilimenti. E' motivo di soddisfazione, speranza e fiducia il fatto che Palazzo Chirigi vi accolga? Allora, sicuramente va accolta con positività una convocazione perché i temi presenti a Palazzo Chirigi non sono sicuramente pochi in questo periodo. Era un impegno preso proprio dalla Presidenza del Consiglio a seguito dell'incontro avvenuto con lo sciopero del 20. Ecco, lì i lavoratori hanno dato un fortissimo segnale venendo proprio qui a Roma per poter discutere delle sorti dello stabilimento e questa convocazione noi speriamo che abbia una piega diversa dall'ultimo incontro fatto proprio a Palazzo Chirigi, ci aspettiamo un governo che non chieda a noi sindacato cosa c'è da dire, ma un governo che ci sappia già spiegare perlomeno che strada vuole prendere a seguito di quel memorandum di cui si parla appunto tra il Ministro Fitto, quindi il governo italiano e Arcelor Mittal. Noi vogliamo entrarne nei contenuti, ma perché come abbiamo detto tante volte, trattativi a scatola chiusa come quella che già c'è stata a marzo 2020 tra governo Conte II e azienda hanno causato un disastro sociale, produttivo, di prospettiva occupazionale. Ecco, quindi un altro copione di questo tipo è chiaro che noi non vogliamo consentirlo, lo stabilimento ha bisogno di tutto, ha bisogno di risposte immediate e ci sono anche ancora i temi degli appalti, i temi dei lavoratori di Ilva e Naesse, è un'avvertenza complicatissima che non può sicuramente vivere di incontri spot e di un programma che cambia di volta in volta. Ecco, segretario, le chiedo di fare un po' di, diciamo così, di fare dei passi indietro rispetto a chi ascolta perché magari si è perso qualche puntata. Allora, quando parlate di chiarimenti sui futuri assetti societari, ecco, quali sono le vostre richieste in merito? La vostra situazione ideale, quale sarebbe sui futuri assetti societari? Allora, ricordiamo che per un anno il Ministro Urso ha continuato a insistere sull'idea che il Governo dovesse passare al 60% e Arcelor Mittal in minoranza. Questo che cosa genererebbe? Cambierebbe la condizione per cui a oggi il paradosso di questa società è che il socio di minoranza pubblico mette i soldi e che il socio di maggioranza privato li gestisca senza metterci un centesimo. Il problema non è se lo Stato mette o non mette risorse, il problema è capire e stabilire il socio privato di maggioranza come viene vincolato e responsabilizzato agli stessi investimenti. Quindi un assetto societario più chiaro dove sia sancito chi fa cosa e chi ha la governance è ormai indispensabile, altrimenti noi continueremo a regalare risorse, sì importanti per la tenuta dello stabilimento, non lo mettiamo in dubbio, ma che non possono de-responsabilizzare totalmente Arcelor Mittal, per cui l'assetto societario è proprio questo il nodo che deve chiarire prima di ogni altro. Quando parlate di transizione ecologica che cosa intendete? L'auspicata decarbonizzazione? Assolutamente, ci vogliono sistemi produttivi che siano eco-compatibili, in giro ce ne sono tantissimi in Europa, il nostro paese, l'Italia e la nazione che ha il più basso indice di ciclo integrale, noi ne usiamo solamente il 20% che è quello di Taranto, Francia e Germania sono ancora al 70 e l'80 e questo è importantissimo. Dare un nuovo ciclo allo stabilimento di Taranto prevede però anche un piano certo sull'occupazione e sulla produzione, perché se voglio cambiare le linee di agglomerato, lo dico più per i lavoratori che sono all'interno, è chiaro che devo dare a quei lavoratori una nuova prospettiva, per cui la decarbonizzazione se la manterremo solamente come slogan per chi deve farsi un pezzetto di campagna elettorale, è bella da dire, ma difficilissima e dolorosissima da realizzare, invece un cambio di ciclo produttivo per cui serve un assetto governativo certo e continuato, deve prevedere un piano che sia decennale, quindicinale, non può prevedere un piano che nasce con questo governo e se le elezioni danno un riscontro diverso lo cambia dopo due anni, ecco perché bene parlare di decarbonizzazione, bene parlare di un ciclo produttivo ecocompatibile, ma soprattutto non bene, fondamentale chiarire come va fatto e come si gestiscono i lavoratori nella transizione, di fronte a un piano come questo troveranno il sindacato dalla loro parte per poterne discutere. Ecco, voi parlate anche di rilancio di alcuni impianti, perché ci sono alcuni impianti ridotti male, in che senso? Ci sono alcuni impianti che sono assolutamente fermi da anni, ma tra l'altro le notizie che arrivavano anche dagli uffici commerciali negli anni, non solo nell'ultimo periodo, raccontano di ordini che arrivavano a bussare la porta di Ilva e che venivano addirittura rifiutati, in queste ore abbiamo saputo anche di aver perso ulteriori commesse, che succede proprio perché gli impianti non ricevono le giuste manutenzioni, nonostante le spese siano certificate, questo sarà poi appunto da chiarire. Ma questo qual è il segnale negativo? È che i lavoratori adibiti alle manutenzioni degli impianti sono proprio quelli che sono in cassa integrazione per la maggior parte delle ore, per cui è un binomio che non regge, c'è l'idea di voler rilanciare gli impianti, ma coloro che li devono mettere a posto dopo tanti anni di fermo sono a casa, per cui abbiamo gli impianti di finitura, di laminazione, i tubifici, tutta la produzione a valle della produzione primaria di acciaio che sono fermi e bisogna farli ripartire, ma non puoi farli ripartire se non puoi garantire quella qualità d'acciaio di cui Ilva era leader. Per fare una roba del genere è chiaro che passa da interventi manutentivi e dal rientro dei lavoratori che se ne occupano. Lo stesso per le ditte in appalto, noi possiamo anche chiedere di fare lavori, di fare manutenzione e appunto di dare ordini, la verità è che poi bisognerebbe anche pagarle adeguatamente nel senso di non lasciare tutto lo scaduto che ci raccontano invece i colleghi del mondo degli appalti che è ormai anche a voi noto. Segretario, incamminandoci verso la fine di questa intervista, visto che ha nominato gli ammortizzatori sociali, vogliamo ricordare alcuni numeri fondamentali. Che forza lavoro c'è ora in Ilva, in Exilva e quante persone sono al lavoro o a casa con gli ammortizzatori sociali? Parliamo ovviamente di Taranto, noi abbiamo 8200 persone circa che sono i dipendenti di cui 3000 sono a casa, a cui vanno aggiunti i costanti 1600 che arrivano dall'amministrazione straordinaria. Non dimentichiamoci anche nell'ultima legge di stabilità, nella legge di bilancio che noi sappiamo bene che oramai la cassa integrazione in Ilva, nostra grande preoccupazione, arriva oramai per decreto, non c'è più neanche la discussione col sindacato, ecco perché ci vuole una governance che stabilisca quanta cassa integrazione serve, perché sarebbe populista e inutile dire no, cassa integrazione è zero, se ho 3 milioni e mezzo di tonnellate di produzione, non saremo sicuramente noi a dirlo, però dire come la gestiamo la cassa integrazione, come diminuiamo gli effetti negativi sul salario dei lavoratori che vengono posti in cassa integrazione e quali sono le figure professionali a cui io non la faccio fare perché voglio rilanciare gli impianti o magari rimetterli in marcia, è tema tutto sindacale che va gestito, per cui gli ammortizzatori sociali che devono accompagnare la transizione, accompagnare un progetto di rilancio, devono essere misurati anche sulle esigenze dei lavoratori, a oggi sono effettivamente un modo per l'azienda di far cassa e il governo costretto anche da un probabile disastro sociale di non scoprire i lavoratori è costretto comunque a riconoscerla perché Ilva rientra sempre in quelle teorie del too big to fail, è troppo grande per fallire, per cui è chiaro che bisogna intervenire, però dovrebbe arrivare un momento in cui anche il governo debba pretendere l'intervento del sindacato, perché faccio un esempio, riconoscere un rateo di tredicesima a questi lavoratori che in tutte le altre parti d'Italia diventa quasi uno standard, qui acciaierie d'Italia con i grandi numeri che sembra di aver realizzato o di non ottenere qualcosa di impensabile, di difficilissimo, anche qui comprendendo la necessità delle risorse è qualcosa su cui bisogna iniziare a mettere mano sul serio. Chiudiamo con una domanda che volge uno sguardo più macroeconomico sull'Exilva, ma la richiesta del vostro prodotto, l'acciaio, è sempre alta nel mondo o è diminuita? Com'è la committenza? Dopo un effetto assolutamente positivo dove l'acciaio è arrivato a costare più dell'oro, è chiaro che in questo periodo, dovuto anche a quello che accade in Germania, l'effetto della richiesta di acciaio è calato, ma questo non è un problema di che tipo di produzione faccio, è un problema di mercato e la siderurgia, soprattutto chi fa siderurgia, gli imprenditori della siderurgia in Italia sono ben consapevoli che ci sono momenti di calo, ma momenti di grande picco, ricordiamo i grandissimi numeri realizzati dalla famiglia Riva, gli utili eccezionali fatti in un momento in cui l'acciaio tirava, ecco quello è un mercato che è in questa condizione sempre, di vero c'è che il prodotto che veniva realizzato in Ilva, dico veniva perché oggi non siamo più magari in quelle condizioni, proprio per quello che raccontavamo prima, era richiesto da clienti che veramente cercavano acciaio di qualità, grandi catene di tubifici, avevamo Fiat, avevamo fincantieri, ecco tutte aziende che non hanno certo bisogno di acciaio scadente, ma che cercano in Ilva la vera qualità e quello stabilimento rilanciato è assolutamente in grado di soddisfare il mercato e appunto riportare al lavoro in maniera ambientalmente sostenibile tutti i lavoratori in cassa.